Buona serata a tutti. Buona visione con le prime serate Rai. Più gustosa di un'acqua liscia. Più equilibrata di una gassata. Liscia, gassata o ferrarelle. Oggi chi lavora ha bisogno di una rete affidabile. Una rete che permette a Mario di gestire la logistica e consegnare sempre in tempo. Qualunque sia il tuo lavoro, affidati a Wind3 Business. E se ti dicessi che siamo stati il primo supermercato d'Italia e che siamo orgogliosamente italiani e che oltre a offrirti i migliori prodotti facciamo noi il pane, la pasta fresca e la migliore gastronomia. E se ti dicessi che da noi la qualità costa meno di quello che pensi e che dietro ogni nostro gesto c'è qualcosa che rende speciale la tua spesa. E se non ci credi, vieni a provare. E se è lunga, più la conosci. Più ti innamori. È di più, molto di più. Anche quando offriamo una semplice coperta, non è mai solo una coperta. Perché in quel gesto c'è la porta di un cuore che si apre. E se ognuno degli 8000 progetti che realizziamo ogni anno non è mai solo quello che si vede in apparenza, allo stesso modo, la tua firma per l'otto per mille alla Chiesa Cattolica non è mai solo una firma. È di più, molto di più. I nostri polli mangiano cereali da noi coltivati. Sono biologici, italiani e molto buoni. Per la tua tenda da sole, scegli un tessuto eco sostenibile. Scegli Tempotest Starlight Blue. Tempotest. Da 100 anni, nelle case degli italiani. Viaggiamo insieme ad alta velocità. Lavoro di squadra, tecnologia e innovazione per un futuro sostenibile. Frecciarossa, l'eccellenza italiana. C'è chi vi offre solo un prezzo. Noi di Conad, oltre al prezzo, vi garantiamo sempre la qualità che non teme confronti. Nella nostra linea bagno Conad Essenzie, ad esempio, la delicatezza è di famiglia. Ogni giorno vi offriamo centinaia di prodotti indispensabili a prezzi bassi e fissi. Come il nostro bagno doccia rilassante Conad Essenzie e con estratti naturali. La migliore qualità a 1,70 euro. Bassi e fissi, qualità e convenienza che non temono confronti. È sotto le onde sfiorate dal sole e accarezzate dal vento, che nascono i fanghi d'alga guam. La forza del mare, in un concentrato naturale di alga marina. Riducono la cellulite e le adiposità cutanee. A ogni applicazione riscopro la loro efficacia. Fanghi d'alga guam. I risultati sono veri. E le donne lo sanno. In diretta dall'Arena di Verona. Il volo, tributo a Ennio Morricone. Prossimamente, Rai 1. Allora, lo chiamo? Sì, mister, Chiellini, perfetto. Buongiorno, mister. Ciao, Giorgio, come stai? Bene, grazie. Ti volevo comunicare che ho pensato a te. Sei pronto? Certo, mister, grazie. Digli di portare chi vuole. Ah, Giorgio, porta chi vuoi, mi raccomando. Va bene, ci penso. Elegante, deve essere elegante. E vieni anche elegante, eh? Ci mancherebbe. Ok, ciao, Giorgio, ti aspetto. Ciao. Bravissimo, sarà una festa bellissima. E adesso, mister, gentilmente, dovrebbe chiamare lui. Lui? Sì. Ma io non so se lo convoco. No, mister, lui ci deve essere. E lui canta benissimo. Se canta benissimo. con... Team. Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team presentano la Team Vision Cup. Questa è te Torniamo tra poco qua dal Mappai Stadium È di più Molto di più È di più Molto di più La tua firma per l'otto per mille alla Chiesa Cattolica Non è mai solo una firma È di più Molto di più Da 30 anni è il movimento a ispirarci A spingerci a dare sempre di più Per superare ogni sfida Ogni limite Ogni aspettativa Ogni volta Chi ha Sportage 30esimo anniversario È tuo con sistema audio JBL UVO Connect e telecamera 360 Gamma Sportage è tua a partire da 229 euro al mese con Easy Kia Kia Movement that inspires Un portale mi cade dal dentro Indosso il caschetto Scopro un e-commerce di grande valore Ci dà sicurezza Migliora l'aspetto Addio alle attese Saltiamo le file Su Buongiorno Work Rinnovo il mio stile Senza fretta Senza attacchi Senza bicchiere Senza parole Senza ombra di dubbio Campari Soda L'aperitivo senza etichette Dal 1932 Do Troni dal 6 al 26 maggio Acquista due dei tantissimi prodotti in promozione Il meno caro lo paghi la metà E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero senza costi aggiuntivi Cosa aspetti? Approfittane subito Troni Non ci sono paragoni Vai papà! Dobbiamo fermarci! Siamo senza benzina papà! C'è pieno! L'unico che deve ricaricarsi è lui Fino al 40% di risparmio carburante grazie alla tecnologia E-Tech Hybrid Nuovo Capture E-Tech Hybrid Tuo da 139 euro al mese Con Ringo vinci i premi degli azzurri Premio certo lo zainetto ufficiale E vinci la maglia ufficiale dell'Italia Con il tuo nome e numero Dettagli e regolamento su Ringo.it Con i nuovi barbecue e gas intelligenti di Weber E' facile ottenere una bistecca perfetta Il tuo assistente barbecue personale ti dirà Quando mettere la bistecca sulla griglia Quando girarla E quando è pronta Scopri i nuovi modelli di barbecue intelligenti Weber e X Su Weber.com Scegli la fibra con il Wi-Fi Serie A Team Che arriva in tutta la casa Certificato dai nostri tecnici Il miglior Wi-Fi di Team Per studiare, lavorare e guardare il calcio in streaming Vieni a scoprire il Wi-Fi pronto per la Serie A Team Nel negozi Team o su Team.it La vita è più bella a colori Testeggiamo insieme un milione di C3 prodotte A maggio nuova Citroen C3 da 129 euro al mese E la personalizzazione è inclusa nel prezzo Anche domenica Citroen I nostri polli mangiano cereali da noi coltivati Sono biologici Italiani E molto buoni Di nuovo collegati con Reggio Emilia Per noi ciò che conta È quello che provi Nuovo Lexus X Full Electric Hybrid Tuo da 299 euro al mese Con noleggio a lungo termine Kinto One Anche domenica Entra in campo con Team Lega Serie A e Team presentano la Team Vision Cup ID4 100% SUV 100% elettrica Da 299 euro al mese Tanne 4,99 Tagge 5,80 Volkswagen La mia nuova casa L'ho trovata su immobiliare.it Prima ho scoperto quanto valeva quella vecchia Poi ne ho trovata una proprio perfetta per noi Immobiliare.it Grazie Immo Un uomo è nel deserto In mezzo ad un inseguimento No Sta tornando a casa Quando? Nuova Jeep Compass Tua da 269 euro al mese Anche 4 per e plug in hybrid Con 2 anni di manutenzione E 4 di garanzia Extra Pensieri? Adios! Con Seat si cambia musica Riparti da Seat Arona e Ibiza a Metano E fai 100 km con meno di 5 euro Solo a maggio Tue da 119 euro al mese Con 4 anni di garanzia E fino a 5000 euro di eco-incentivi Seat Un bel giorno la leggerezza trovo casa E nacque liberamente Con il cotto di alta qualità Privato del grasso E con tanto gusto E la mortadella di pollo Squisitamente leggera Scegli liberamente di Casa Modena Maestri nei salumi Prova SkyQ a 9 euro per 30 giorni Lo colleghi a internet e vedi Sky TV Netflix, Sky Cinema, Sky Sport e Sky Kids E poi decidi se abbonarti con l'offerta che fa per te Chiamaci 02 8080 Ci sono vite più facili di quella di Matteo Lui invece ha dovuto mettercela tutta Non si tratta solo di impegno Ma di applicarlo nella giusta direzione Scegliendo Pegaso Con l'Università Pegaso Puoi studiare Dare gli esami a distanza e laurearti Pegaso Il futuro Ricomincia da te Io mica ho capito Ma perché siamo qui? Perché ci sono gli ecoincentivi statali Eh, ma perché proprio qui? Perché gli ecoincentivi di DR sono meglio Vabbè ma sempre 1500 euro ci danno Sì Ma qui posso rottamare anche la macchina di tua madre Anche stavolta non hai capito DR fa oltre gli incentivi statali La DR 5.0 con cambio manuale E tu ha solo i 17.400 euro Se rottami qualsiasi usato Amore andiamo Non vorrai far aspettare la mamma Tutti i giorni sorprese per te Esci fuori da questo monolocale Un bel aperitivo fuori bolla Wind Day ti dà di più Basta essere cliente Wind 3 Per avere ogni giorno una sorpresa diversa Questo mercoledì puoi vincere uno scooter Piaggio Scarica l'app Ma come una moto d'acqua? Ma ce l'hai la patente nautica? Wind 3 Molto più vicini Buonasera siete collegati in diretta con il Giant Stadium del New Jersey Tutti passano la palla a Baggio e te fai i gol Giovanni, questo è l'ultimo mondiale per Roby La cosa importante che devi capire è che dipende tutto da te Ma pure quel rigore Mi ha insegnato un po' la vita Viaggio alla scoperta di uno dei santi più amati Francesco Come mai così tanti storici Scrittori, pittori, registi Lo indicano proprio come un protagonista assoluto del medioevo La straordinaria vicenda del poverello di Assisi Che trovò Dio negli ultimi Entrare qui dentro significa veramente entrare nella mente Nelle idee, nel cuore di San Francisco Con Alberto Angela, Ulisse, il piacere della scoperta Giovedì 27 maggio alle 21 e 25, Rai 1 Non sono uno spione Sono loro che hanno tradito l'ideale di Cosa Nostra Ma c'è il nome Puschetti? Dottor Falcone, noi dobbiamo decidere solo una cosa Chi deve morire prima? Lei o io? Il traditore Un nuovo motivo per tornare a casa presto Hai mille nuovi motivi per seguire gli europei di calcio UEFA sui canali Rai Dall'11 giugno, in chiaro, insieme, per tornare grandi Questa è la storia di una squadra e del suo coraggio di rialzarsi Cosa vuole questa squadra? Andare avanti e crescere e vincere ancora La percezione è che si stia ricreando qualcosa di magico La parola aiuta il compagno! Rai 1 presenta un viaggio mai realizzato prima dentro la vita pubblica e privata della nazionale italiana di calcio È una squadra che sprigiona energia, vitalità Dallo quanto vuoi apprezzare, taglia fuori il centrale di sinistra Un racconto unico e inedito della preparazione agli europei di calcio 2021 Credo che sia giusto riportare l'Italia in cima al mondo Sogno azzurro, dal 7 al 10 giugno alle 20 e 30 Rai 1 Rai 1 Sostenibile e della solidità del gruppo Mediobanca Che banca alza la tua visione? Se vuoi cambiare il futuro Devi guardare il mondo con occhi nuovi Puntare più lontano e sfidare le aspettative Scegliendo di guidare già da oggi i SUV di domani Nuova Hyundai Kona Hybrid electric o mild hybrid On to better Nuova Kona Hybrid Tua da 199 euro al mese Grazie alla maxi rotamazione Hyundai Oggi chi lavora ha bisogno di una rete affidabile Una grande rete che aiuta Simona a gestire il suo locale in maniera efficiente Qualunque sia il tuo lavoro affidati a Wind3 Business C'è chi segue le mode E chi il proprio stile Nissan Juke Design e tecnologia Senza compromessi Prova il crossover coupé Nissan Juke A maggio Subito tuo A 149 euro al mese Con eco-incentivi Nissan I fuoriclasse della tecnologia scendono in campo Con MediAward la partita Si gioca dove sei tu Smart TV iSense 58 pollici 4K a soli 499 euro MediAward Fatto apposta per me Nuova mini tre porte Go-Kart Feeling anche full electric Provala in tutte le concessionarie mini Gli italiani mangiano pasta tutti i giorni Ed io Doppietta Scopri le euro ricette di sottilette Partecipa al concorso Vuoi vincere 100 Google Nest App? Sottilette Sciogliamo le formalità Vogliamo correre Perché correre è il nostro primo istinto Da bambini Appena ci alziamo in piedi Verso il palco di un concerto Sulla sabbia per il primo bagno Rincorriamo treni Per mandare un bacio Corriamo insieme alle nostre emozioni I nostri pensieri E i nostri sogni Dentro quelle scarpe Siamo noi In ogni nostra versione Corriamo al ritmo dei nostri passi Perché correre È ciò che ci fa sentire vivi Di Adora Vogliamo correre Team Vision Team Vision, la scatola magica dei desideri E Netflix Ti fanno rivivere il grande calcio E le emozioni che hanno unito l'Italia Il Divin Codino Il film sulla storia di Roberto Baggio È solo su Netflix Guardalo con Team Vision Vieni nei negozi Team Come vai su Team.it Per noi l'elettrico è oggi Ed è tutto da vivere Ora Recharge Life Nuovo Skoda Enyaq I-V Il SUV 100% elettrico Skoda Noi ci fermiamo per il primo mini spot L'energia di Repower si fa sentire Scegli Repower Il personal trainer dell'energia per la tua azienda Doppio cambio Noi ci fermiamo per il secondo mini spot Malinowski Tutti i giorni hai bisogno di nuova energia Integra la tua energia MGKVis Il primo con tre sali di magnesio organici MGKVis La tua vera energia Sta per arrivare il doppio cambio per noi Ultimo mini spot Viaggiamo insieme ad alta velocità Lavoro di squadra, tecnologia e innovazione Per un futuro sostenibile Frecciarossa L'eccellenza italiana Entra in campo con Team Lega Serie A e Team hanno presentato la Team Vision Cup L'eccellenza italiana E' solo su Netflix Guardalo con Team Vision Vieni nei negozi Team O vai su Team.it C'è più gusto a stare insieme Condividendo ciò che ami di più Tutto il gusto crispy con bacon croccante E l'inconfondibile salsa ma più in grande Gran Crispy McBacon Provalo anche con extra bacon Dal 17 al 21 maggio 5 giorni di offerte Solo con l'app Corri a provarle Benvenuto nel mondo Ford Hybrid Ford Kuga Plug-in Hybrid Ibrido ed elettrico in una sola auto Anticipo zero 330 euro al mese Team Vision La scatola magica dei desideri E Netflix Ti fanno rivivere il grande calcio E le emozioni che hanno munito l'Italia Il divino codino Il film sulla storia di Roberto Baggio E' solo su Netflix Guardalo con Team Vision Vieni nei negozi Team O vai su Team.it Come siamo smart Controllo i miei investimenti Anch'io Sì Come mio nonno Guarda che io ho il mio consulente Che mi aggiorna Io ho un team di esperti Che cura i miei portafogli Ah E la volatilità la gestisce lui? E quanto paghi di terra? Sa che t'ho perso Ma da quando sei così esperto? Ci vuole un attimo Vai su MoneyFarm.com Il consulente finanziario indipendente Eletto numero uno in Italia MoneyFarm Il tuo miglior investimento Scopri l'effetto istantaneo Di Deiga Mr. White E avrai subito Un sorriso più bianco Deiga Mr. White Sorriso più bianco In un istante È difficile rallentare Quando sei il più veloce del mondo Non puoi smettere di essere Usain Bolt Non hai tempo per questo Ci sono troppe cose da fare Insegnare Scrivere Aprire un'attività Mom stop Hai bisogno di una macchina più veloce Proprio ora E vorresti assicurarti domani? No Per questo Allianz Direct Ti offre una quotazione online immediata That's fast for insurance company Assicurato online Ora Questo è wow Allianz Direct Prima di sottoscrivere E leggere il set informativo So benissimo di essere spiato Controllato Questa è la fila di tutto Sergio Castellitto E Gabriele D'Annunzio Niente deve essere tralasciato Neanche le storielle piccanti Il cattivo poeta Al cinema Con il sistema multimediale MBUX Non vorrai più scendere Classe A Oggi con pacchetto tech incluso Fino al 31 maggio Scoprila su mercedes-benz.it Team Vision La scatola magica dei desideri E Netflix Ti fanno rivivere Il grande calcio E le emozioni Che hanno unito l'Italia Il Divin Codino Il film sulla storia Di Roberto Baggio È solo su Netflix Guardalo con Team Vision Vieni nei negozi Team O vai su Team.it Oggi A lezione di etichetta McDonald's Ci racconta La qualità Tutta italiana Dei suoi hamburger La carne degli hamburger Di McDonald's È 100% carne bovina Proveniente da 15.000 Allevamenti italiani I tagli di carne bovina Come punta Collo e spalla Vengono scelti E controllati Per una preparazione sicura Garanzia di qualità Gli hamburger McDonald's Sono semplici e gustosi Cottura alla piastra Un pizzico di sale e pepe Scegli il tuo hamburger McDonald's Tutta la bontà Della nostra carne bovina italiana Alla prossima lezione Nella serata in cui il coprifuoco È sceso fino alle 23 Con Federico Lincà Ministro per i rapporti Con il Parlamento Per il Movimento 5 Stelle Parleremo dell'annuncio Di Mattarella Dice Sono vecchio Non pensate a ricandidarmi Sono stanco Voglio riposarmi Poi gli chiederemo A chi andranno I 40 miliardi Del decreto sostegni Che domani Dovrebbe essere approvato Dal Consiglio dei Ministri E infine Un chiarimento Su che cosa sta succedendo All'interno del Movimento 5 Stelle Poi la pagina Della giustizia Con le domande Che l'alta Corte di giustizia Di Salburgo Fa all'Italia Dice Ma è andato bene Il processo Era corretto Il processo Che ha portato Berlusconi Fuori dal Senato Poi alla fine E infine Il drammatico cambiamento Che il Covid Ha portato Nelle nostre vite Dal crollo Delle nascite Fino all'abuso Di psicofarmaci Porta a porta Tra poco Era mia moglie Qualcuno l'ha ammazzata Siamo vittime Tutti Di questa schifosa Miniera Manca tua moglie Sentiamo Perché una di queste Questa sera Non andiamo a cena Sì certo Partiamo Io te e Lara Andiamo via Prima devo capire Chi ha ucciso Emma Vada da Carolina E si dichiari Che c'è che ti spaventa Daphne Avanti parla Dimmi quello che sai È vero che te ne vai Pensi davvero Che Daphne Abbiò ucciso Emma Lei dice di no Ma mi ha mentito Tante volte In prima visione L'ultima imperdibile puntata Di Un passo dal cielo 6 I guardiani Domani 21 e 25 Rai 1 Carlo Conti presenta Top 10 Venerdì alle 21 e 25 Su Rai 1 Noi torniamo tra pochissimo Con le voci Dei protagonisti State con noi Canale 57 Rai Sport HD Buona serata Buona serata Entra in campo con Team Lega Serie A e Team Hanno presentato La Team Vision Cup Rai per lo sport Con Team Questo programma È presentato da Tende da sole Tempo Test Buonasera al pubblico di Portaforta